Irene ma siamo pronte? Allora fammi pensare, inviti spediti, sono locandina fisse su tutto il territorio Telefonate? Fatte, sms sono partiti questa mattina Dovremmo essere pronte? Sì assolutamente sì, vedremo poi nel corso della giornata Irene ma le telecamere sono già accese? Mamma mia siamo un'onda, Lorenza, salve a tutti io sono Irene E io sono Lorenza E siamo Irene e Lorenza di Vita alla Festa Diciamo subito perché siamo qui? Siamo qui per invitarvi al Ducale by Night Al palazzo Ducale a Cirella dalle 19.30 in poi Quando? Il 7 luglio domenica E che cosa succede il 7 luglio? Cosa faremo? In occasione di questa serata vogliamo presentare un pacchetto creato apposta per i giovani sposi Matrimonio All Inclusive Che cos'è il matrimonio All Inclusive? È l'organizzazione del matrimonio ad un prezzo prestabilito Che sveleremo proprio in quell'occasione, quindi domenica 7 luglio Immaginate tutti gli aspetti del matrimonio senza stress e senza preoccupazioni Ci saremo noi a cocolarvi E ci saranno anche i professionisti che ci accompagnano in questa avventura e che collaborano con noi da anni Diciamo un po' cosa succederà quella serata? Allora innanzitutto ci sarà musica Offriremo a tutti coloro che parteciperanno un gustosissimo apericena, live cooking In un contesto da sogno, immaginate questo giardino all'italiana che si affaccia sul mare con lo scorcio dell'isola di Cirella E ospite della serata Miss POS Italia 2013, concorso nazionale di bellezza Quindi non resta che rinnovare l'invito e dire vi aspettiamo quella sera Al Ducale by Night, palazzo Ducale a Cirella dalle 19.30 in poi Ciao